Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di questo bellissimo mouse di Corsair, ossia lo Scimitar RGB Elite, che ha un costo di circa 100€, se non ricordo male, su Amazon. Naturalmente non si tratta di un mouse da lavoro, anche se può essere utilizzato anche per lavoro, ma un mouse gaming. E a differenza degli altri mouse gaming, è un mouse pensato principalmente e prevalentemente per giochi MMORPG o MMORPG, quindi i giochi di ruolo online. Questo perché, come potete vedere, sono presenti davvero numerosi tasti laterali, che possono essere programmati. Il mouse dispone di ben 17 pulsanti, quindi 10 sono questi, poi abbiamo i classici pulsanti torsali e lo scroller, che possono essere completamente personalizzati. Il mouse, come vi ho anticipato, è pensato per, diciamo, i giochi appunto di ruolo, perché, come potete vedere, sono presenti tanti tasti per essere programmati a seconda dell'esigenza. Se avete mai provato un gioco online tipo Black Desert, sapete che vi sono, diciamo, tante opzioni a disposizione. Avete l'attacco, la difesa, il cambio magia, il cambio equipaggiamento, gli oggetti, diciamo, consumabili, la mappa e così via dicendo. Solitamente si ricorre alla tastiera, ma grazie a questo mouse potete avere tutto a portata di click, come si suol dire, quindi con la mano destra e con il pollice potete accedere a tutti i pulsanti, quindi richiamare la mappa, usare gli oggetti, cambiare arma, eccetera, eccetera. È un mouse davvero eccezionale per questo tipo di giochi, quindi se voi giocate, ad esempio, ad uno sparatutto, ad un action e così via dicendo, non si tratta di un mouse consigliato, ma se giocate ai giochi di ruolo online, allora questo mouse è assolutamente consigliato. Il mouse è USB, non può essere scollegato il cavo, come potete vedere, quindi non è wireless, è USB, il che da una parte è bene perché eviterete di ricaricarlo, e presenta dei LED, come potete vedere, che possono essere sia dinamici, come in questo modo, quindi si passa dal viola al blu al verde, eccetera, che personalizzati fissi come, diciamo, qualsiasi altra periferica attraverso il software ufficiale. Potete quindi personalizzare ogni singolo tasto all'interno di ogni gioco o renderli universali, quindi fare in modo che magari il tasto 3 fa una cosa, il tasto 6 ne fa un'altra e così via dicendo. L'impugnatura è ergonomica, davvero comodissima, ragazzi, ve lo posso assicurare, è comodissima e ve lo dice uno che ha una mano non tanto piccola, è molto comoda, ma realizzata con materiali lisci, come potete immaginare e udire al tatto, è liscio come materiale, non è ruvido. Ad eccezione della parte laterale sulla destra, questa superficie, che è ruvida, ma è realizzata con materiali che sudando nel corso del tempo tende a consumarsi, come ogni mouse del resto. Quindi, diciamo, è un mouse principalmente, prevalentemente, per i giochi di ruolo online. Davvero comodissimo, ragazzi, molto leggero da muovere sopra il tappetino, da, diciamo, spostare sul tappetino, non necessita di configurazione, ma può essere, ovviamente, personalizzato. Se siete interessati all'acquisto di questo fantastico mouse, che vanta fino a 18.000 DPI, potete acquistarlo su Amazon, tramite il link che vi riporto nella descrizione del video, ad un costo attualmente di circa 100€. Grazie a tutti, grazie a tutti.